Questo non è amore, un messaggio chiaro che la Polizia di Stato da anni porta nelle piazze italiane e anche a Taranto ormai un appuntamento fisso qui in Piazza della Vittoria con il contributo degli studenti, i primi ai quali vi rivolgete oggi. I dati che cosa ci dicono in provincia di Taranto? L'anno appena trascorso, giusto per dare qualche dato, noi abbiamo emesso 25 sorveglianze speciali e abbiamo ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza a carico di soggetti per maltrattamenti nei confronti dei propri compagni o compagne e 39 ammonimenti sono stati emessi dal questore di Taranto. Quindi è un dato che fa riflettere, è aumentata ovviamente quella che è la conflittualità, anche questo subito dopo il Covid abbiamo registrato questo, sono dati in aumento e non c'è giorno in cui le forze di Polizia, Polizia di Stato in particolare ma anche l'arma dei Carabinieri non facciano interventi per liti o dissidi tra compagni, coniugi, fidanzati. Una ricorrenza che ogni anno che passa per fortuna fa registrare avanzamenti sul piano del raggiungimento della parità, dobbiamo garantire non tanto, a mio modo di vedere, delle condizioni di protezione particolari, io credo che la cosa più importante sia garantire a tutti parità di chance, soprattutto giudizi che siano assolutamente distanti da qualsiasi valutazione di genere.